Ciao Roberto, benvenuto a Periscritto. Ciao Marzia, buongiorno. Roberto, cominciamo subito questa nostra chiacchierata parlando proprio del tuo ultimo libro pubblicato lo scorso anno che si intitola La condizione neomoderna, pubblicato dai Naudi. Un libro che però non è solo per i filosofi, ma per tutte le persone che amano leggere e cercare di capire il proprio tempo. Il postmoderno è morto, la sua fine è avvenuta proprio l'11 settembre del 2001 e tutti sappiamo che cosa è accaduto e come tu stesso scrivi nel libro le sue esequie sono iniziate con la crisi economica del 2007. Il tuo libro sostanzialmente lo possiamo dividere in due parti. Nella prima parte mosti quelli che sono i limiti del postmodernismo e perché proprio la sua visione del mondo non è più all'altezza del nostro tempo. Nella seconda parte invece ci fai vedere quella che è la condizione attuale e sostieni una tesi secondo la quale ci troviamo proprio a vivere una nuova modernità che rappresenta una sfida ma soprattutto una speranza. Quindi Roberto, ci spieghi quali sono le caratteristiche essenziali di questa condizione neomoderna? Sì, allora, guarda, il mio tentativo è stato quello di provare a guardarmi intorno e cercare una categoria culturale, un modo di vedere le cose che mi aiutasse ad affrontarle e non semplicemente a diagnosticarle. In questo senso tipicamente una delle categorie che si usa più spesso appunto per dire dell'oggi è stato il postmoderno. Questa non mi ha mai lasciato molto soddisfatto, appunto nella prima parte del libro cerco di spiegare perché secondo me non è adeguata, ma mi è balenata un po' questa intuizione che devo approfondire ancora, ma che qui ho cercato di abbozzare almeno nei tratti essenziali, che consiste in questo. L'intuizione è che la nostra situazione è piuttosto simile a com'era quella dei primi moderni. Parlo di 400-500 essenzialmente, anche se ci sono dovute differenze. Allora, cosa accadeva allora? Accadeva che un quadro culturale che si imponeva al mondo, che era quello scolastico, teologico eccetera, crollava, che l'unità della compagine europea politica e culturale cristiana sotto l'impero e così via anche quella si disfaceva, che le visioni della natura e quindi del sapere si frammentavano, cominciavano ad essere più credibile il sistema tolemaico e così via. Insomma, i moderni si sono dovuti dare da fare per cercare di riguardare il mondo, riaffrontarlo, ricategorizzarlo, ridefinire che cos'è sapere, che cos'è il soggetto, che cos'è la religione, che cos'è il rapporto fra filosofia e religione, che cos'è la politica, quali sono i rapporti fra gli umani. E lo hanno fatto provando alcune categorie. Appunto, Cartesio, quando tira fuori questa intuizione del penso dunque sono, semplicemente si rende conto che le certezze che voleva trasmettergli la cultura scolastica non funzionavano più e che tutto quello con cui lui poteva fare un po' affidamento era questo dubbio per cui tutto potrebbe essere un inganno tranne il fatto che io sia qui a pensarci, a farmi questa domanda. Questo non significa avere certezze granitiche, significa avere un punto di partenza su cui provare a costruire. Così per l'area riorganizzazione del mondo dopo le scoperte geografiche, così per la riorganizzazione del mondo dopo l'ascissione all'interno del cristianesimo, la riforma, così per la definizione di nuovi canoni nell'arte. Il rinascimento è stata una scoperta di canoni, la prospettiva, il realismo. Ecco, tutto questo è stato una grande inventiva. Noi siamo in una condizione molto simile perché certi quadri culturali che ci derivavano dall'Ottocento e dal Novecento non funzionano più. Le categorie anche di Stato-Nazione, i confini, una certa idea del sapere, sia scientifico sia umanistico. Il fatto che è molto difficile oggi escludere dallo sguardo l'esperienza religiosa e al tempo stesso è difficile integrarla in una convivenza pacifica. La stessa filosofia ha bisogno di ridefinire che cos'è lei stessa, che cos'è il sapere, che cos'è la morale, che cos'è il diritto. In questo alcuni tratti di un tentativo di richiamare, di ridefinire questi canoni li vedo. Vedo che ci sono filosofie che tentano una teoria della giustizia, come i Rawls, che tentano una morale, che provano a ridefinire la realtà, il realismo, le nuove forme di realismo che sono molto varie. C'è nell'arte una ricerca molto grande di nuovi canoni, che sono spesso canoni legati a un'opera d'arte pensata come qualcosa che non può essere riprodotto, che non può essere un oggetto commerciale. Facciamo questo esempio. Nella pop art, che è un'arte invece postmoderna, cioè che non crede più al canone e alla bellezza come qualcosa che ha un valore iconico, che ha un valore permanente, nella pop art, pensate a Andy Warhol, il fatto di poter riprodurre l'oggetto è proprio la provocazione di base. Immagini tutte uguali, immagini commerciali, immagini colorate, che non pretendono di essere uniche, anzi vogliono essere riprodotte. L'arte che sta imponendosi nel mondo contemporaneo da almeno una quindicina d'anni, direi proprio dall'inizio del nuovo millennio, è invece un'arte che cerca disperatamente e spasmodicamente l'unicità dell'accadimento. È l'arte performativa, è l'arte dovuta all'incontro. Per esempio, quando pensiamo a Marina Abramovic, quello che lei fa nelle sue performance è di fare qualcosa che accade una e una sola volta. La si può registrare, ma in realtà il vero evento è che in quel momento, quando accade. Così anche certe forme di arte pubblica, che sono permanenti, ma appunto uniche, non possono essere riprodotti. Si trovano lì, in un posto nella città, sono visibili a tutti, non hanno quell'aura romantica del quadro, che poi è un'aura fasulla, perché il quadro può essere riprodotto infinite volte. Quindi mi sembra che il nostro tempo stia cercando nuovi canoni di bellezza, di verità, di giustizia e di etica e che lo stia facendo perché capisce che i canoni presenti non funzionano più, ma non si arrende alla tesi postmodernista, che è tutto finito, quindi è inutile cercare nuovi canoni. Secondo me le forze migliori del nostro tempo sono quelle che invece cercano nuove forme di comprensione, di confronto, di formazione del sapere, della convivenza e anche dell'espressione artistica. Questo è una grande sfida. Certo è che questa sfida accade in un momento di grande turbolenza, come era il 500. Nel 500 in Europa si sono combattute le peggiori guerre di religione che si conoscano, fra cristiani. Noi oggi ci troviamo in un momento in cui c'è un grande conflitto che serpeggia nel mondo, spesso legato a motivi anche religiosi, ma in realtà motivi geopolitici, come era allora, per il controllo dei mari allora, per le colonie, e invece oggi è il controllo della sfera, insomma del globo. Ecco, spostato su una dimensione globale, non più soltanto europea, ma globale, abbiamo problemi molto simili. Problemi che possiamo affrontare soltanto cercando un canone di ragionevolezza che sia utile per confrontarci, per convivere, e non invece affrontare questa situazione dicendo è tutto finito, non c'è più né ragione, né verità, né bellezza, né giustizia, è allora tanto vale. Quest'idea del declino, che è tipica del postmodernismo, io la rifiuto in blocco, ma vedo che lo rifiuta secondo me ancora buona parte della cultura contemporanea, che invece azzarda prova con proposte come il reddito di base, le nuove forme artistiche, come dicevo, la nuova filosofia. Siamo come dei moderni, della prima modernità, cioè del Cinquecento, che hanno attraversato alcune sconfitte, alcuni grossi traumi, alcuni drammi imponenti, ma che hanno, non dico la speranza, in realtà è proprio il compito, il dovere, la responsabilità di guardare avanti. E per questo ci serve un'idea della storia come qualcosa che ha un futuro, non qualcosa che non ce l'ha, che è finito. Solo questo ci può salvare, essere ancora nuovamente moderni, altrimenti siamo veramente finiti. E questo mi fa pensare ad una frase che hai detto proprio la prima volta che ti ho conosciuto al convegno dell'osservatorio di storytelling sulla narrazione, dove dicevi appunto abbiamo bisogno di storie perché abbiamo bisogno di storia. E quindi questo veramente mi riporta anche a quella giornata che è stata molto intensa e sono contenta anche per questo di poter parlare con te oggi di questi argomenti. Una condizione quindi turbolenta, come dicevi tu, dove i conflitti aumentano, anche i cambiamenti, quindi culturali, scientifici, sono molto più repentini, più globali, anche più difficili da governare di conseguenza. Ma a differenza di ciò che diceva il postmodernismo, secondo cui i conflitti sono insolubili e quindi o ci si rassegna o li si evita con l'ironia per esempio, invece questa nuova condizione neomoderna ci invita ad affrontarli i conflitti e non a evitarli. Dobbiamo trovare, come dicevi, dei principi per poterlo fare. E tu nel libro dici una cosa molto bella, cioè che il neomoderno può essere la fase di incubazione di un nuovo illuminismo che richiama un senso di responsabilità planetaria dalla quale ripartire per scongiurare nuove barbarie. E veramente abbiamo paura di questo perché il rischio è molto alto, sempre più concreto. Quindi io volevo chiederti, pensando proprio a questo, qual è oggi il compito della filosofia e che cosa può fare? E credo che oggi ci sia veramente tanto bisogno di filosofia e di filosofi. E in questo senso mi riferisco soprattutto al ruolo della filosofia intesa come pensiero concreto, che poi anche quello che se non sbaglio tu cerchi di portare avanti nella facoltà di filosofia della quale sei preside, quindi con i tuoi studenti, con i tuoi ragazzi, per aiutarci proprio ad affrontare le difficoltà del nostro presente. Sì, guarda, mi sembra che ci sia veramente bisogno di filosofia per questa semplice ragione. La filosofia ci si è sempre mossa nel tentativo di smontare le precomprensioni fallaci, pensa a quello che faceva appunto Socrate con i propri concittadini, che cos'è giusto? Ma giusto è quello che abbiamo sempre detto che sia, la tradizione ci insegna che fare bene gli amici e in qualche modo ostacolare i nemici. Però mettere in questione questo ha significato per Socrate dire no, ma non sono gli amici e i nemici. La divisione non è fra chi è amico e chi è nemico, la divisione fra il giusto e l'ingiusto è quella fra chi merita la giustizia e chi deve essere in qualche modo punito perché infranto la giustizia alla legge e al di sopra delle amicizie intrapersonali, le include, le rende possibili, ma è un valore più alto che consente di riconoscere anche nel nemico qualcuno che merita giustizia. Capito? Allora, questa cosa è stato il movimento che la cultura occidentale ha portato nel mondo, quello di pensare in maniera universale, cioè in maniera che tutti siano inclusi. Allora, questo movimento è eterno e lo puoi chiamare filosofia, lo puoi chiamare politica, lo puoi chiamare diritto, ma è il movimento con cui gli esseri umani hanno tentato di pensare in maniera comune, in maniera condivisa. Se questo è un nuovo illuminismo, o se diciamo questo può portare a una nuova forma di illuminismo, lo direi in questo modo, non si tratta di rifare i Voltaire, i Diderot e i Kant, anche perché non solo sono stati i geni insuperabili, ma in qualche modo la condizione nostra non è quella. Quello che io chiamo illuminismo è non una stagione storica, ma un modo del pensiero che tenta, come dice la parola, un rischiaramento, andare negli angoli più bui della nostra esperienza, della nostra cultura per rischiararli e sciogliere le contraddizioni. In quel caso si scioglievano per esempio le superstizioni perniciose, i conflitti dovuti meramente a pregiudizio. Penso che questo sia ancora un compito, ed è un compito costante, quindi siamo sempre in un illuminismo, inteso come movimento, che spesso il movimento viene oscurato da altre forze. Siccome le altre forze ora mi sembrano imponenti e minacciose, di un movimento di rischiaramento credo vi sia un grande bisogno. E la filosofia secondo me lo sta faticosamente facendo. Finita la stagione del postmoderno, come dicevo, i filosofi oggi si sono messi a provare, a fermare alcuni punti che possano essere proposti come condivisibili. Si tratta non soltanto di pensiero strato, si tratta anche di pensiero narrativo. Su questo poi magari torneremo, ma quando ricordavi quella frase che mi è stata suggerita in realtà dal contesto in cui mi trovavo, cioè un laboratorio di storytelling, noi abbiamo senz'altro bisogno di storie e questo lo si vede. Lo si vede nel nostro quotidiano, nel modo in cui il giornalismo stesso riporta le notizie. Oggi a tutti i giornalisti insegnano che una notizia viene veicolata meglio se la incornici in una storia. Quando questo poi non diventa magari un modo per fare del giornalismo un po' così, un po' popolare. Ma la storia ti consente di dare un senso all'informazione. Allora abbiamo bisogno di storie perché è il nostro modo di provare ad avere un futuro, di pensare che potrebbe andare così, che potremmo avere di fronte una storia in cui il nostro impegno ha un senso. O comunque è un impegno che ci è richiesto dal tempo. Cioè è recuperare il senso del tempo, questo mi sembra importante come momento culturale. E la filosofia oggi è richiamata un po' da questo magnetismo del tempo, della proiezione. Ricordavi prima il fenomeno dell'accelerazione. Su questo ha scritto un libro molto importante, un filosofo sociologo tedesco contemporaneo, che si chiama Hartmut Rosa. Il libro si chiama Accelerazione e alienazione. E lui documenta, secondo me, in maniera abbastanza convincente e inquietante, come l'accelerazione e quindi la mancanza di tempo sia il nostro vulnus, cioè il nostro problema principale della cultura contemporanea. Questa accelerazione non è tanto, secondo me, derivante dal fatto che ci è sottratto il tempo, perché nonostante noi possiamo fare molte più cose in meno tempo oggi, paradossalmente ne facciamo sempre di più e ne abbiamo sempre meno tempo. Non è solo questo. È che il tempo che passa in queste attività ci sembra meno dotato di senso, di densità, di forza, di solidità. E la sfida è proprio invece di rintracciare, in questo tempo che passa, nelle attività che facciamo, un senso possibile, un senso che non vale solo per me, ma che io posso mostrare al mondo. Ho speso tempo a scrivere questo libro e a fare mille altre cose. Queste attività avevano un senso o era soltanto il mio dovere, qualcosa che mi era imposto, qualcosa che ho subito, qualcosa che ho fatto mentre facevo altro. E questa è la sfida. E i moderni hanno persino nel nome questa consapevolezza, che è nel tempo attuale, nell'ora, che va colto il senso. Perché modo, in latino, vuol dire proprio ora. Quelli che si sono dichiarati moderni, all'inizio della modernità, erano coloro che erano consapevoli di vivere ora. e che in quell'ora cercavano, appunto, ciò che realizzava la loro dedizione. Questo è lo stesso per noi. Non possiamo permettere che ci sia sottratto il tempo, ma il punto non è svuotarlo. Il punto è rintracciarne la densità in ogni azione che si compie, anche se fossero molte. Il fatto che siano molte non deve farci pensare che siamo perduti. Siamo capaci di fare un certo numero di cose. Per alcune occorre una sosta, occorre fermarsi. Per altre va meglio la velocità. In questo bisogna semplicemente imparare a gestirlo. Però è questo. Gestire il tempo vuol dire inscriverlo in una storia. E la filosofia sta facendo questo, secondo me. Sta ripensando il tempo, la storia. Sta ripensando categorie come, appunto, la verità, la giustizia, il bene. E lo fa, diciamo, essendo un po' una cenerentola nella cultura contemporanea, ma in realtà avendo sempre più spazio. Adesso questa è una piccola cosa, poi magari su questo torneremo. Nella mia esperienza, vari settori della cultura e del mondo produttivo contemporaneo. Le imprese, le aziende dei vari settori commerciali, qualsiasi è. Cioè, grandi aziende, piccole aziende, settori produttivi di materiali di consumo, oppure settori che sono produttivi di, diciamo, elementi più culturali, come l'editoria. Stanno sempre più reintegrando la competenza filosofica, le competenze filosofiche. La capacità di usare concetti universali, la capacità di argomentare, di svolgere un buon ragionamento convincente, la capacità di valutare. Queste sono capacità che si possono sviluppare e che la filosofia ha sempre cercato di utilizzare. Quindi i filosofi si sono molto allenati a fare questo. E spesso sono richiesti anche nel mondo produttivo per insegnare questo allenamento, questo training. Uno di questi è il raccontare storie, che però non è solo filosofia, anzi è più narrativa, insomma. E quindi continueremo a raccontare storie anche in questa nuova condizione neomoderna. Ci aiuterà, insomma, anche a interpretare il nostro tempo e poi provare a capire, a ipotizzare come sarà il nostro futuro. Per pensare al futuro sicuramente abbiamo bisogno della filosofia che ci aiuti a farci delle domande, o meglio a farci le domande giuste. E faccio questa premessa, anche perché so che tu di recente ti stai occupando di un nuovo settore di ricerca, hai sviluppato proprio una nuova passione per l'utopia. Già il fatto, diciamo, di provare a pensare a come potrebbe essere il futuro è un po' utopico. Ci racconti di che cosa ti stai occupando nello specifico e quali sono magari le principali osservazioni, i risultati, chiamiamoli così, che ti ha portato questa tua recente attività di ricerca sull'utopia? Guarda, l'utopia è stata una folgorazione l'estate scorsa. Io avevo ovviamente, come tutti, un po' letto Tommaso Moro, Bacone, Campanella, ma ho sentito il bisogno di rileggerli l'estate scorsa, senza sapere perché. E poi ho capito perché. E la ragione è proprio questa. L'utopia è un modo di pensare, come un compito, nel concreto, come sarebbe una città, una società, ben funzionante, armonica, giusta, equa, in cui la cultura non è erudizione, ma è un sapere condiviso, in cui i rapporti sono liberi e ad un tempo paritari, non senza che questo significhi che ci siano anche gerarchie. Nell'utopia di Tommaso Moro ci sono gerarchie che vengono rispettate, ma il ruolo complessivo delle persone è un ruolo di libertà e di condivisione. Questo mi pare sia in realtà un modo di pensare molto consono al nostro tempo. Non a caso l'utopia di Tommaso Moro viene pubblicata nel 1516, quindi proprio all'inizio della modernità. E vuol dire che in quel momento c'era bisogno di pensare, non per categorie astratte, ma tramite il racconto di un posto che non esiste, utopia come sappiamo appunto è un non luogo, ma che in realtà potrebbe esistere. Il messaggio vero, quello che ricavo da tutte le utopie, da quella appunto di Moro, quella di Campanella, quella di Bacone, ma quella di Cabè, e anche il pensiero utopico socialista, Saint-Simon, Fourier, Owen, è una società giusta può esistere, una società armonica, in cui l'economia è un'economia di produzione condivisa, e non esiste la separazione in classi basata esclusivamente sulla capacità produttiva e sul reddito. Ecco, una società in cui le disuguaglianze sono regolate, se non appianate, in maniera equa, è possibile. E noi abbiamo bisogno di pensare questo, su scala globale, di nuovo, perché questa è la grande sfida. La grande sfida del mondo contemporaneo è certamente l'iniquità, e la disarmonia, e il conflitto, e la dispersione dei saperi. Anche la nuova Atlantide di Bacone, la si eletta sempre come il manifesto dello scientismo moderno, che dice, col metodo scientifico copriamo tutto il sapere. Io ci vedo più il tentativo, da parte di Bacone, di provare a dare un ordine a conoscenze diverse, diverse, disparate, che non si riuscivano più a tenere insieme. È l'eredità confusa del Medioevo, quella che Bacone cerca di riorganizzare, e di ricostruire su nuove basi. Ecco, allora, mi sembra, io ricavo questo, le utopie ci dicono che si può pensare in maniera immaginaria, immaginifica, senza che questo significhi perdere tempo. Anzi, significa essere costretti proprio perché l'immaginazione di un, immaginare un luogo, e come vivono gli abitanti in quel luogo, come si organizzano, come regolano la giustizia, come producono. È molto concreto. Non è stabilire i principi dell'economia politica, è qualcosa d'altro, è più semplice, è più ingenuo se si vuole. Ma è lì che in realtà vengono a galla delle idee interessanti. In quel caso, nell'epoca di Moro, una delle idee guide era appunto quello dell'abolizione della proprietà privata. Io vedo che uno delle utopie realistiche, come la chiama Rutger Bregman, in questo libro molto interessante, Bregman è uno storico molto giovane, ha scritto questo libro che è stato subito un successo planetario, che si chiama Utopia per realisti. e mette insieme alcune delle cose, degli esperimenti, delle esperienze che sono state fatte per la lotta alla provertà per la diffusione appunto del reddito di base come reddito semplicemente per il fatto che qualcuno appartiene a una comunità e che è indipendente, è una cosa folle se ci pensi. Lui Bregman, come anche Vampirais, che propongono un reddito di base da almeno una quindicina d'anni, pensano a una cosa che sulla carta sembra folle, un reddito garantito, universale e incondizionato, vuol dire a tutti i cittadini e senza condizione, cioè non importa se tu lavori o no. Allora, si può pensare a quel che si vuole di questo, ma nel dettaglio naturalmente. Vampirais è un economista che cerca di documentare la fattibilità di questo, ma il punto è il segnale che questo è. Questo è chiaramente un pensiero utopico, perché pensare che si possa fare questo uno dice ma come lo finanzio, ecco, se già soltanto questo è un segnale. Però, mi sembra il ritorno di un tipo di pensiero che su certi punti riesce a avere l'idea, l'intuizione che potrebbe costituire un pezzo importante della nostra convivenza. e l'utopia mi sta dando questo sostanzialmente. Poi ci saranno altre cose ancora non le ho messe a fuoco, ma questa è la cosa fondamentale. Ed è davvero molto interessante questo argomento affascinante, quindi sicuramente è una ricerca appunto in divenire la tua e magari si concretizzerà in un altro libro e quindi quella potrebbe essere una bella occasione per parlarne di nuovo assieme. Sono veramente tanti i progetti, Roberto, che tu porti avanti le ricerche delle quali ti sei occupato. In particolare ce n'è una che insomma ha caratterizzato un po' tutta la tua attività di ricerca fino a questo momento che è legata alla filosofia morale e allo sviluppo di una teoria morale normativa che è chiamato come personalismo critico e che prende le mosse dalla prospettiva di canto. Ovviamente si tratta di concetti molto ampi che però potranno essere approfonditi anche perché io questo mi porta a mandare un messaggio agli ascoltatori poi sul mio sito ci sarà l'articolo riassuntivo oltre che al video di questa intervista dove inserirò anche i link ai tuoi libri perché ne hai scritti parecchi e c'è veramente molto da approfondire per chi ne avrà il piacere. Quindi ti chiedo di raccontarci insomma in breve compatibilmente con i tempi che abbiamo in che cosa consiste questa tua teoria del personalismo critico? Sì guarda l'intuizione di base è stata quella la mia esperienza umana per me si riassume molto chiaramente nella idea di persona l'idea di persona ha una lunga tradizione che molti conoscono però dice due cose la persona è ad un tempo il mio corpo quello che io sono e qualcosa che cede al mio corpo cioè la mia natura è di essere un corpo libero libero e pensante ma sottolineo più libero che pensante perché pensanti sono anche gli animali entro certi limiti e al loro modo ma la libertà invece no noi non siamo soggetti agli impulsi nella stessa misura in cui lo sono loro siamo capaci di uno scarto di uno scarto anche radicale dal nostro stesso impulso allora l'idea di persona dice quasi sempre questo è una nozione concreta perché quando dico la mia persona io dico il mio corpo lo dice anche Dante dice un amor che il calcor gentile il ratto si apprende e prese costrui della mia persona e il modo al corpo offende allora la mia persona è questo cioè è quello che io sono qui in carne ed os però al tempo stesso io sono questa capacità di superare la mia corporeità proprio perché scelgo di sacrificarmi per qualcosa o di impegnarmi per qualcosa il punto fondamentale è che qui mi mancava un pezzo e mi mancava l'elemento kantiano che coltivavo da tempo vale a dire l'elemento che consente di dire dove sta il canone il criterio della mia libertà il canone della mia libertà sta mi sembra nella capacità della mia libertà di darsi una regola da sola che è la regola per cui io sono libero di fare tutto ciò per cui posso portare una ragione una buona ragione e le buone ragioni sono quelle che io posso presentare e sperare che vengano riconosciute quando Kant dice bisogna usare massime universali non sta dicendo una cosa stratta sta dicendo le ragioni che sono quelle per cui io concretamente voglio fare qualcosa che può essere studiare filosofia suonare o insegnare questo io lo faccio perché mi sembra una cosa buona se io posso dire questo e le ragioni per cui la riputo una cosa buona e ragionevolmente pensare che altri possano condividerlo e beh questo è tutto quel che mi serve tutto quello che serve a dire che questa è effettivamente una cosa buona non c'è bisogno di inventare una teoria morale dietro a questo la teoria morale si costruisce dentro la mia esperienza personale nella relazione nella relazione con gli altri a cui presento le mie ragioni questa è un po' l'idea di fondo quindi questo personalismo critico vorrebbe essere una prospettiva morale basata sull'idea che noi diamo le nostre ragioni sono ragioni personali ma non per questo sono ragioni meno buone sono ragioni che possono essere buone Roberto senti tra questi progetti come dicevo prima che porti avanti fai veramente un sacco di cose e c'è anche una particolare passione per la musica se non sbaglio ti ho sentito suonare e cantare sei anche molto bravo appunto questo progetto del quale ti stai occupando da un po' di tempo che riguarda la filosofia al cinema che è una cosa molto interessante cinema che di per sé è un'occasione di pensiero ti ho sentito dire che è proprio per te il luogo di elaborazione della coscienza del mondo contemporaneo e questo tuo progetto è diventato anche un libro che si intitola come fare filosofia con i film pubblicato da Carocci effettivamente questa cosa ti porta a riflettere perché il cinema pensa e ci costringe a pensare e se si impara a leggere un film con gli strumenti della filosofia si può fare un'esperienza molto più profonda più piena e consapevole rispetto a quello che noi siamo abituati a fare nel momento in cui semplicemente guardiamo un film quindi abbiamo accesso ad un'esperienza veramente completamente diversa e questo tuo libro offre in sostanza un metodo anzi in realtà se non sbaglio i metodi sono quattro dei quali tu parli proprio per leggere filosoficamente ogni genere di film e ti chiedo quindi come si fa a leggere appunto filosoficamente un film guarda intanto non bisogna essere filosofi non è assolutamente necessario è sufficiente assumere un atteggiamento l'atteggiamento è di chiedere a un film cosa mi stai dicendo e come me lo stai dicendo i quattro metodi che abbiamo messo a punto con una squadra di colleghi che sono appunto Andrea Tagliapietra Luca Pesse Claudia Bianchi Raffaele Ariano Francesco Valagussa e Maria Russo e Antonio Moretti abbiamo provato a capire in quanti modi il film parla in chiave filosofica lo può fare con l'uso delle immagini cioè può farlo appunto mettendo in primo piano a fuoco o fuori fuoco un certo dettaglio un certo momento un certo passaggio dicendo guarda l'immagine non stare a seguire semplicemente la storia concentrati su questa su questa luce ecco questo fa emergere un senso una domanda o anche una risposta che altrimenti libri parole e semplicemente esperienza non ci danno concentra l'attenzione secondo in realtà molti di film sono costruiti proprio come un'argomentazione d'altra parte è la stessa filosofia se uno pensa ai miti in Platone i miti in Platone spesso sono pezzi di argomentazione sono storie per l'appunto come si diceva con cui Platone cerca di dimostrare qualcosa ed è alcuni film non tutti ma alcuni film sottosviluppano un argomento un problema e argomentano dentro come ne esco io ho un problema un dilemma supponiamo e come ne esco e i protagonisti incarnano il ragionamento e questa è la grandezza del cinema che i protagonisti sono costretti a incarnare un ragionamento non a esporlo non è mai in un monologo che un film è filosofico è nella storia è nel dialogo è nel confronto che un film fa filosofia i lunghi monologhi non sono adatti poi oltretutto un vero monologo è sempre un dialogo con sé non è mai un comizio un comizio non è una filosofia poi ci sono altri modi di farlo insomma penso che la filosofia sia una sorta di cassetta degli attrezzi avere un po' di concetti un po' di cultura un po' di ricordi filosofici un po' di metodo servono a godersi un buon film perché se un buon film non ti fa pensare ha fallito il cinema deve essere sempre un po' una provocazione e per essere pronti a coglierlo dobbiamo in qualche modo metterci in quella posizione che cosa mi stai dicendo e perché me lo stai dicendo insomma da quando questa esperienza è diventata un po' anche metodica di andare al cinema con questa intenzione io mi diverto molto di più al cinema è un'altra cosa bene sono curiosa di provare anch'io a cercare di sperimentare questo nuovo modo di guardare il cinema e vorrei tornare un attimo Roberto lo accennavi prima il rapporto il legame che può esserci tra la filosofia e l'impresa io in particolare per preparare questa intervista ho letto veramente ho visto tante cose ho consultato tanti materiali tra questi mi aveva colpito anche perché qui ha per iscritto il mondo delle imprese è molto presente parliamo di imprese che si raccontano di professionisti che utilizzano comunque il libro come strumento per raccontarsi per narrare il sé professionale e così via e in questa intervista che tu hai rilasciato un po' di tempo fa ad Alessandro Zaccuri per l'avvenire Alessandro che è un amico di Feriscritt anche lui è stato uno dei miei primissimi ospiti in cui tu facevi riferimento appunto alla presenza accanto al prodotto e al profitto di una terza dimensione quella che tu hai proprio definito come stile che corrisponde in sostanza al valore morale che ci dovrebbe essere proprio nel modo in cui un'azienda produce e fa profitto quindi qual è il contributo che la filosofia può dare a favore della costruzione di un'etica nel modo di fare impresa della quale credo ci sia veramente un gran bisogno sì allora intanto appunto rilevo che la filosofia è cercata dalle aziende questo è un ottimo segnale e questo secondo me accade perché chi fa impresa sta cercando di comprendere il senso di quello che fa lo scopo allora questo scopo è certamente il profitto da una parte ma tu non hai profitto se non hai un prodotto il punto è che non basta avere un prodotto è il modo in cui lo fai cioè quali valori ci metti dentro il valore dell'artigianato è il valore dell'estetica è il valore della maggiore efficienza c'è anche un prodotto che non ha pretese estetiche o di valori tradizionali o di artigianato ma dice io faccio la cosa che mi è chiesta ma lo faccio bene al minor costo possibile e però in maniera efficace e duratura anche questi sono valori cioè non è che il valore vuol dire avere una grossa un grosso impegno nella campagna per la sostenibilità della produzione o avere una campagna pubblicitaria un'immagine molto green molto sostenibile l'etica è dentro all'attività produttiva non funziona la mia attività produttiva se non è animata da questo tentativo di creare un valore che è il prodotto che mi dà il profitto che però è un valore condiviso queste molte teorie del management ormai l'hanno messo a fuoco Porter e Kramer l'hanno detto in un articolo famoso del 2011 si chiama creating shared value e noi abbiamo io con un gruppo di colleghi e segnatamente sono Stefania Contesini con cui sto curando un libro su questo argomento e un gruppo di lavoro di filosofi e cioè Adriano Fabris Mario De Caro e Benedetta Giovanola coordinati da un imprenditore si chiama Marco Gulli abbiamo messo un po' a fuoco questa faccenda e la questione dello stile si è manifestata come quella in cui confluisce una parte importante cioè lo stile è il modo il modo di produzione non è soltanto processi ma è proprio l'incarnazione di una identità ed è questo che viene fuori l'identità delle aziende non è data di un'azienda l'identità dell'impresa non è data a priori va costruita e si costruisce l'identità immergendo tutti i processi tutte le attività nel valore che le animano da dentro non ho mai pensato io che l'etica dovesse arrivare da fuori a limitare un'attività neutra soprattutto fare impresa fare propisto non è un'attività neutra è un'attività di valore solo che appunto questo valore è complesso è più complicato del semplice guadagno non arriva al guadagno se non porta dentro un insieme di ulteriori elementi che sono come minimo il fatto che il valore che creo è un valore diffuso cioè che deve poter essere acquistato se no che valore non deve poter essere condiviso cioè anche la vendibilità di un prodotto non è banale non è non è meramente commerciale più si capisce questo più l'attività produttiva diventa ricca e consente una buona esperienza soprattutto per chi lavora io penso soprattutto a coloro che lavorano nelle imprese l'imprenditore è uno dei lavoratori in questa ottica cioè è uno di quelli che cerca di creare un valore condiviso e se i lavoratori sono appunto partecipi di questa dinamica non sono forza mera forza lavoro non sono alienati altrimenti appunto se invece partecipano a questa dinamica nel senso che si cerca di mettere in comune il valore che si cerca di realizzare e si sente in una condivisa attività di creazione di valore allora questo consente di avere migliori relazioni sindacali migliore produttività miglior benessere aziendale come viene chiamato ma tutte queste cose ci sono nella recente pubblicistica manageriale però manca un quadro ecco il senso per cui la filosofia mi sembra utile il tentativo di creare un quadro in cui il senso appunto lo scopo del fare impresa metta in ordine tutti i vari pezzi per cui appunto la parte di responsabilità sociale di impresa non è un pezzo appiccicato sopra ma è il cuore stesso dell'azienda e una volta compreso magari qual è qual è questa identità riuscire a trasmettere questo valore anche attraverso un libro credo possa essere importante proprio per portarla a conoscenza delle persone e potrebbe diventare anche un modo per differenziarsi sicuramente e accrescere la propria autorevolezza fidelizzare insomma i clienti nel senso di conquistare la loro fiducia e questo è un concetto che cerco di portare avanti insomma recentemente qui a per iscritto di sostenere e devo dire che sono sempre molto di più le aziende che decidono di raccontare le loro storie attraverso le quali proprio cercare di far emergere questi valori dove non è soltanto l'imprenditore che parla racconta la sua storia ma è proprio l'impresa che parla attraverso gli addetti ai lavori le persone che lavorano in quell'azienda le storie che appunto riescono a trasformare attraverso le parole a rendere concreta questa identità quindi sono contenta che anche tu insomma hai confermato questo messaggio Roberto io avrei ancora due domande da farti non so se posso approfittare o se ti è grado di essere breve dai ok allora guarda c'era un argomento molto interessante anche che mi piacerebbe affrontare che era quello del legame esistente tra la filosofia e le neuroscienze o meglio dell'intreccio che c'è tra la comprensione scientifica e quella filosofica della condizione umana per una maggiore comprensione di ciò che siamo e di ciò che progettiamo di essere nel futuro in particolare qual è il ruolo che la filosofia è chiamata a svolgere rispetto appunto alle neuroscienze guarda le neuroscienze oggi sono una frontiera della nostra conoscenza non solo della biomedicina ma proprio del nostro modo di conoscere chi siamo e quello che ci stanno raccontando sul cervello è estremamente importante una delle grandi questioni è quanto liberi siamo cioè quanto davvero le nostre scelte sono libere c'è una grande discussione io credo che per esempio uno dei ruoli della filosofia sia in questo campo di non lasciare campo di non lasciare troppo spazio a dei pregiudizi deterministici perché vige un po' l'idea che se io riesco a vedere che nel cervello quando accadono alcuni movimenti accadono alcuni appunto processi mentali automatici legati alla decisione la tesi che immediatamente segue è ah ma allora non siamo liberi cioè in realtà il nostro cervello decide prima di noi e al posto nostro allora in questa discussione vari filosofi hanno sottolineato come non si possa dire così cioè in realtà il nostro cervello funziona certo anche molto spesso in anticipo rispetto alla nostra consapevolezza dell'azione ma spesso questo anticipo è perché noi ci siamo abituati a scegliere in un certo modo abbiamo creato l'abitudine se io ho preso l'abitudine di appunto rispettare le persone quando le incontro per strada cosa che magari in una condizione diciamo originaria non farei perché ho imparato la buona educazione il mio cervello non ci sta a pensare vedo qualcuno e lo saluto questo è un esempio banale ma non è così banale come sembra perché questo riflesso automatico un neuroscienziato dice vabbè l'hai fatto come riflesso automatico sì ma l'ho acquisito e non l'ho acquisito per caso l'ho acquisito perché abbiamo deciso come cultura che ci rispettiamo che ci guardiamo e ci salutiamo forse l'esempio è troppo banale ma anche nei dilemmi non è vero che il nostro modo di decidere sia determinato da scariche elettriche punto queste scariche elettriche sono determinate dal fatto che ci siamo allenati a affrontare le scelte e che le nostre sinapsi si sono intrecciate e costituite nella loro relazione nella rete come sai all'inizio il nostro cervello è molto magmatico si forma durante la crescita e non è affatto casuale che si formino in un certo modo invece che un altro e questo perché in realtà nel nostro cervello ci sono automatismi morali capito è questo che che non trovo sia importante che i filosofi facciano smentire certe come dire pregiudizi scientifici che pretenderebbero di toglierci la nostra consapevolezza e autonomia e quindi libertà basta rifletterci un poco per capire che non è così gli scienziati lo sanno quelli veri cioè il dialogo con le neuroscienze è sempre molto fruttuoso quando gli scienziati sono disposti a capire a a confrontarsi con questa idea e non non funzionano in base a giudizi precostituiti anche i filosofi non devono avere pregiudizi troppi filosofi sono antiscientisti questo non ha molto senso bisogna semplicemente guardare le cose guardare le carte guardare quello che ci dice la scienza non prenderla per definitiva fare le domande giuste e qualche volta scovare il problema e segnalarlo Roberto senti l'ultimissima domanda che forse diciamo l'argomento che più mi ha colpito nel preparare questa intervista parliamo di potenziamento dell'umano io ho guardato il video della tua recente partecipazione al festival della filosofia che era appunto dedicato al potenziamento dell'umano il tuo intervento era intitolato artificializzazione se non sbaglio e tra le tante cose che hai detto hai parlato all'inizio di arte mi aveva proprio colpito il fatto che tu parlavi appunto dell'arte intesa come espressione artistica e vorrei chiederti appunto se puoi riportare qui per me per gli ascoltatori di Periscritto il fatto che l'arte possa essere intesa come potenziamento dell'umano e perché in particolare hai detto una frase che me la sono scritta perché mi è piaciuta veramente molto l'arte nella dimensione del potenziamento del modo di abitare il mondo con un attraversamento di senso veramente molto bella e tra l'altro poi anche complimenti perché hai questo modo di argomentare concetti veramente molto complessi però in una maniera molto chiara quindi è anche facile tra virgolette è un piacere seguirti ora è solo un tentativo di essere onesto uno dei miei maestri all'università osava ripetere che l'onestà di un filosofo sta nella sua chiarezza se un filosofo è oscuro vuol dire che non è onesto oppure che è confuso allora però semplicemente deve dire che è confuso e io spesso sono confuso perché sono io stesso a non aver capito cosa sto cercando di dire in quel caso devo dire quell'intuizione sull'arte è stata un po' estemporanea spesso succede così no? che tu sei stai parlando stai tenendo una conferenza hai preparato una serie di cose non hai previsto tutto e mentre le ragioni mentre esponi ti si illumina un po' un'idea però poi ci ho ripensato effettivamente mi sembrava di aver colto un punto e cioè arte e artificio hanno la stessa radice dal punto di vista del linguaggio allora perché? io mi chiedo sempre come mai cioè non può essere che sono due cose che non c'entrano niente una con l'altra e c'entrano perché l'arte come artificio che cosa fa? cerca di condensare in un oggetto in un'esperienza in una performance tutto ciò che l'umano fa sulla natura a partire dalla sua stessa natura che poi anche appunto con la body art cioè anche con l'arte che investe interamente il corpo è un modo di far apparire l'umano nella semplice corporità allora mi sembra che sia questo quello che quello che fa l'arte quando coglie effettivamente il suo ruolo il suo ruolo è quello di provare ad attraversare tutto ciò che abbiamo di fronte qualunque oggetto può diventare oggetto d'arte ma anche questa è una grande intuizione perché diventa oggetto d'arte perché potenzia ecco la cosa che un po' mi aveva colpito potenzia il modo di esprimere la nostra presenza nel mondo lo fa in modo diverso dalla tecnica la tecnica prende l'oggetto prende la materia prima e ne tira fuori energia ne tira fuori un prodotto appunto un processo l'arte invece si ferma e prende l'oggetto e vi immerge tutta l'energia di senso di cui siamo capaci e questa è la grandezza cioè la mette mette dentro alla realtà che viviamo tutto quello che di umano si può far risaltare a partire dalla materialità che siamo noi e che ci circonda quindi io non vedo poi appunto anche per questo nel potenziamento umano attraverso le biotecnologie o altro io non vedo una minaccia in sé se noi saremo capaci di rendere anche qualcosa come il potenziamento delle nostre capacità mnemoniche o fisiche qualcosa che resta attaccato alla nostra capacità di decidere di agire di volere liberamente ricordiamoci appunto che il punto vero il crinale vero è restare liberi essere sempre in condizione di restare liberi e se questo è ancora possibile io non sono così ostile all'idea di potenziarci tra l'altro l'abbiamo fatto allungando la nostra vita portando protesi come gli occhiali in modo normale naturale non c'è niente di sbagliato in sé nel potenziamento la questione è che il potenziamento che ti rende schiavo non è un potenziamento è un depotenziamento se tu sei costretto a volere certe cose o a fare certe cose in un modo determinato da un meccanismo che tu non governi più allora sì abbiamo perso qualcosa ma se il potenziamento ci consente di fare cose che non potremmo fare altrimenti e sono cose in cui possiamo ancora investire di umanità di relazione di scambio così davvero perché no quindi l'arte è un'anticipazione in tutto questo Roberto che dire veramente grazie grazie di cuore per la tua grande disponibilità per aver condiviso con me ma con tutti gli ascoltatori veramente un grande valore che è frutto della tua passione dei tuoi studi e credo anche di una profonda dedizione proprio nei confronti della filosofia che secondo me merita di essere portata anche al di fuori delle università per permettere alle persone in modo particolare ai giovani di comprendere quanto sia importante e possa aiutarci oggi anche nella vita di tutti i giorni e devo dire che questo ultimamente lo sto vedendo molto non soltanto con la filosofia lo testimoniano un po' anche le interviste che ho fatto recentemente c'è stato Antonio Cerasa che è appunto un neuroscienziato che ha scritto già due libri un fisico Giovanni Amelino Camelia che hanno proprio avuto il desiderio di portare il risultato dei loro studi delle loro ricerche al di fuori del campo dell'università della ricerca per metterlo a disposizione delle persone e credo che questa sia una grande ricchezza quindi se siamo riusciti oggi a dare questo messaggio ai giovani per imparare per aiutarli diciamo così ad amare la filosofia sono molto contenta e ti ringrazio prevalentemente per questo d'accordo io ringrazio te perché condivido al 100% quello che hai detto ora il ruolo di noi intellettuali tu io chi fa l'università chi insegna al liceo chi fa il liceo anche io considero intellettuali tutti coloro che hanno fatto un liceo e che nella nella loro professione portano la cultura ecco il ruolo di tutti noi è quello di non arrendersi cioè quello di provare davvero a scambiare le migliori idee che abbiamo le migliori conoscenze che abbiamo per affrontare le sfide che abbiamo davanti che sono enormi la cosa peggiore che possiamo fare è metterci nella posizione disincantata dell'intellettuale disilluso che non crede più a nulla postmoderno per l'appunto e che si ritira nell'ironia o nel così nel gioco nello scherzo o nella come dire nel rifiuto nella rinuncia invece le testimonianze di cui tu mi dici mi fanno molto piacere perché vuol dire che questa è una sensazione condivisa da chi ha qualcosa da chi fa qualcosa che pensa possa aiutarci ad abitare questo mondo in modo accettabile e quindi sono io che ringrazio te per aver creato questo spazio e quindi Grazie.